Ci ricordiamo tutti dove eravamo quel giorno. Quello che stavamo facendo, il giorno dell'incidente. Eravamo vicini, troppo vicini all'esplosione. L'incidente ha ucciso i nostri cari, ma una parte di loro è rimasta. Li chiamiamo Redi Vivi. I Redi Vivi sono un grande mistero. Ciò che sappiamo è che ripetono l'azione che stavano facendo quando sono morti. Non possono comunicare con noi, né toccarci. Li vediamo, ma praticamente non esistono. Che mi dici di Ghost Boy? Ghost Boy? Kirk Lane? È ossessionato dai Redi Vivi. Ti ho notata in classe. Rispetto a tutti gli altri, sembri più sveglia. Sai che qualcosa sta per accadere, vero? C'è un Redi Vivo che continua ad apparirmi. Aiutami a scoprire perché. Che te ne importa? Che ha di così speciale? Ho paura che voglia farmi del male. È un omicida. Quando moriamo, lasciamo dietro di noi come una scia. Queste scie sono delle tracce. Che ci possono condurre indietro per interagire coi vivi. Che diavolo succede? Temo non abbiate più molto tempo. Se un Redi Vivo non vuole abbandonarti, di solito è perché ha qualcosa da dirti. Che c'è un Redi Vivo non vuole abbandonarti,